Vi voglio parlare dell'equazione del guadagno nel settore musicale. Da dove arriva questa riflessione? Guardando i nostri clienti, guardando il percorso che stanno facendo, che hanno concluso, che stanno iniziando tutti i clienti, vediamo che ci sono dei problemi sui quali voglio subito e immediatamente puntare l'attenzione, lo farò in questo video. Primo tema, l'equazione. Quali sono i parametri fondamentali relativi al lavoro nella musica? Cioè, cosa mi serve? Quali processi mi servono per lavorare davvero nella musica? Cosa c'è a sinistra dell'equazione? Ho inserito sostenibilità di un progetto musicale. Io voglio evidenziare questa parola, progetto, perché il primo grande tema che voglio evidenziare è il fatto che spesso non ci sono dei progetti. Cioè, se non hai chiaro un progetto da testare, eventualmente da buttare via, da rifare da zero, da validare, da proporre e così via, non stiamo parlando del nulla. Quindi, essendo un settore dove non esiste la figura del dipendente e le poche figure dei dipendenti, tra l'altro molte sono anche i nostri clienti, rappresentano un residuo, una parte residuale di un sistema vecchio che ormai è alla deriva. Perché, vi faccio un esempio, anche gli insegnanti attualmente ricevono proposte a partita IVA, quindi è ormai un sistema che sta andando in quella direzione lì e questo riguarda tanti motivi, tante ragioni di natura prettamente economica di sistema generale. Non essendoci la figura del dipendente, l'unico modo è avere un progetto. Se tu non hai un progetto, alla base non puoi fare nulla. E uno mi può dire, bene, ma come faccio a costruire il progetto? Quindi, innanzitutto, il primo obiettivo è costruire un progetto tuo, testarlo, validarlo. Non è detto che debba essere per forza tuo, può essere anche un progetto con altri. Quando parlo di progetto non mi riferisco solo al progetto artistico, cioè non è solo un progetto relativo a un artista, può essere il progetto relativo a uno studio, può essere il progetto relativo a un coaching di vocal, piano, drum e così via, a un mix engineer. Quindi, innanzitutto, ci deve essere la parola progetto in testa, un qualcosa di specifico, unico, tuo, differenziante, altrimenti stiamo parlando del nulla, ok? Ogni servizio musicale ha bisogno di un progetto. Ricordiamoci sempre che noi in questo settore, per costruire un modello, non dobbiamo focalizzarci sulla creazione solo di un business, ma di un movimento. Di un movimento, di un'ideologia, dobbiamo portare avanti un'ideologia perché è un settore culturale, è un settore che ha delle regole diverse rispetto ad altri settori lavorativi e noi dobbiamo adattarci a queste regole. Una di queste è chiaramente legata al discorso progetto. Primo parametro relativo all'equazione del guadagno in questo settore è quello delle competenze. Io ci tengo a sottolineare la parolina verticali. Cosa intendo per competenze verticali? Beh, ovviamente mi riferisco a competenze musicali verticali, cioè specifiche a un qualcosa in cui noi possiamo andare a definirci esperti di quel qualcosa. Non bastano le competenze per essere esperti, ma è molto importante capire che servono competenze verticali. Perché ti dico questo? Perché spesso noto che tanti hanno, quando noi facciamo delle analisi, le competenze, tanti hanno magari competenze variegate, più strumenti, voce, eccetera, però in nulla sono veramente specializzati, in nulla vogliono eccellere. Se tu non dai un valore alto a qualcuno non potrai mai ricevere qualcosa di grande, un valore, quindi c'è sempre uno scambio valoriale, no? E anche il denaro, l'equazione del guadagno si basa sul valore alla base. Verticali significa, ripeto, prendete delle sottonicchie, prendete delle competenze relative, possono essere ad arrangiamento, a mix, a produzione, a degli strumenti musicali, alla voce, Cioè, sia dal punto di vista tecnico, alla scrittura, di testi, e così via, dovete essere il numero uno, devi essere il numero uno. Ok, quindi, questo è un aspetto importantissimo. Non vedo tante competenze verticali, ne vedo molte poche, molti pensano che possono guadagnare nella musica senza avere competenze verticali. Dimentichiamocelo. Anche perché lavorare in questo settore è una roba seria, come ho detto in un altro video, che era più un video di sfogo, E in altri settori è la normalità avere competenze verticali per lavorare seriamente. Non capisco perché in questo settore sembra non essere la normalità. Uno dei motivi che intravedo è il fatto che spesso non si ha il concetto di misura delle competenze verticali. Cioè, come faccio a capire se io ho delle vere e proprie competenze verticali, no? In altri settori spesso ti piazzano la laurea di turno, ti piazzano un percorso accademico ben specifico. In questo sì, ci sono i conservatori, ci sono corsi privati, ma la realtà, presso scuole private, ma la realtà è che da un certo punto di vista chi esce da questi corsi ufficiali, me compreso in passato, poi non lavora in questo settore. Cioè, alla base fa altro di mestiere, quindi già è un qualcosa di anomalo. Dall'altra parte, una fetta gigantesca di chi vuole lavorare in questo settore banalmente non fa queste scuole. Quindi questo significa, si traduce nel fatto che è un sistema diverso da altri, ok? Poi, secondo punto è strategia. Perché strategia? Perché mentre in altri settori tantissimi professionisti non hanno una strategia, banalmente perché lavorano all'interno di sistemi in cui vi è già una strategia di qualcun altro, cioè di chi fa impresa, di liberi professionisti, di sistemi che generano guadagno, in questo settore devi essere in grado, da solo o con dei soci, di creare progetti che generano denaro diretto. Ok? Quindi se non hai strategia è impossibile avere una reale sostenibilità in questo settore. Il piano B è puntare a dei posti da dipendente che, ripeto, sono ormai pochissimi rispetto alla domanda, ma anche lì parliamone perché poi anche, per esempio, chi lavora in conservatorio, spesso conosco tantissimi insegnanti che hanno comunque uno stipendio non alto, per non dire basso, e quindi comunque fanno attività extra. Quindi anche lì mettetevi in testa che se non avete una strategia fate altro di mestiere, ve lo consiglio caldamente. E poi, ultimo aspetto relativo a questa equazione è il mindset. E ora ci entro. Quindi, per avere una sostenibilità attraverso un progetto musicale, bisogna avere tre macro-ingredienti. Uno, competenze verticali musicali. Due, strategia. Tre, mindset. Mindset aprirebbe un capitolo immenso. Aprirebbe un capitolo immenso che riguarda cosa? Allora, diciamo che posso prenderlo da tanti lati questo capitolo. Oggi, in questo video, lo prendo da uno. La povertà. Noi di base siamo, io non parlo dei soldi in banca, parlo della mentalità, del modo di pensare, siamo stati istruiti ad essere, a ragionare da poveri, ok? Cioè, a far parte di un sistema dove ci sono già delle regole, dove noi entriamo, chi è più bravo può fare un percorso diverso rispetto a chi è meno bravo. E infatti, la maggior parte di noi, su 100 persone, statisticamente si dice che almeno 90-93 su 100, sono persone che mantengono il mindset da poveri, quindi sono di fatto dipendenti di altri sistemi economici. Cosa significa? Che io posso essere un dipendente di un sistema economico, oppure avendo una mentalità non da povero. Ma la base, questo riguarda il fatto che siamo stati proprio tutti istruiti così. Io in primis, ok? Per tanti motivi, legati a scuola, famiglia, un sistema educativo complessivo. Il problema della musica, ed ecco perché una delle grandi criticità della musica è questa, la musica ha delle opportunità straordinarie di lavoro. Il problema è che non riusciamo neanche a intercettarle. Perché se tu non riesci a visualizzarle, come fai poi ad aggredirle e andare a prendertele? Non riusciamo a prendercele perché banalmente queste opportunità non hanno il titolo lavora per noi. Lavora con noi, ok? Proprio perché è un settore diverso da altri. È un settore artistico che ha delle regole diverse dagli altri, dove se non sei in grado di andare a intercettare l'opportunità, dimenticati di guadagnarci davvero. E questo richiede il mindset. Cioè, per intercettare l'opportunità, la prima, la primissima, la primissima fase che tu devi andare ad implementare è il cambio paradigma. Tu devi cambiare il tuo mindset perché noi alla base siamo poveri, ragioniamo in maniera povera, ripeto, non a livello economico ma di pensiero, e dobbiamo iniziare a ragionare da ricchi. Perché se vogliamo attrarre il denaro in questo settore e non continuare a rincorlerlo continuamente in maniera anche molto disperata, mi viene da dire, dobbiamo cambiare il mindset. Se non cambiamo il mindset, il denaro non arriva da noi. Questo mettetevelo, mettetevelo, mettetelo in testa, ok? Quindi se tu hai competenze verticali molto forti, se hai una strategia specifica che parte dalle tue competenze e che quindi serve a far match tra le tue competenze e quello che il mercato chiede, e in più hai un mindset non da povero, ma un mindset adatto per intercettare l'opportunità in questo settore, fai bingo, crei questa equazione. E infatti i nostri clienti che hanno sviluppato questa equazione lavorano, lavorano anche bene, e parlo anche dei professionisti in questo settore. Quindi cosa succede in questo settore? Che o si lavora malissimo o si lavora benissimo. Non c'è la via di mezzo, cioè non c'è il 1500 euro al mese in questo settore, a differenza degli altri. O si fa zero o tendente a zero, oppure si lavora molto bene, ok? Questo perché figlio dell'intero sistema economico questa equazione lo riassume molto bene. Cosa voglio dire con questo? Che se non hai questi tasselli, non può andare da nessuna parte. È importantissimo capire bene come incastrare questi tasselli. Questi tasselli richiedono innanzitutto degli strumenti, ma non basta. Richiedono anche esperienza. Cioè io posso, prendo il mio caso specifico, imparare il piano, ma finché non faccio esperienza come pianista non posso arrivare a un certo livello di expertise, di sicurezza, di competenza validata, verificata. Le competenze non le costruisci solo in cameretta. Così via la strategia, così via il mindset. Bisogna esporsi, bisogna fare cazzate, bisogna correggerle, bisogna evolvere, bisogna lanciarsi là fuori. Io invece a questo punto di vista vedo troppo immobilismo, troppo la ricerca di costruire la strategia giusta in cameretta su dei PDF, su degli Excel, su degli schemi. non basta, ragazzi. Dobbiamo lanciarci. Assolutamente. E l'unica opzione è questa per generare questa equazione. Se hai domande in merito, se vuoi capire come noi possiamo aiutarti in ognuna di queste tre aree, scrivici la nostra email o commenta il video YouTube, anche con osservazioni, e ti risponderemo appena possibile. Al prossimo video. Grazie. Grazie.